Ciao a tutti! Oggi è qui con me il nostro fantasioso e destroso Roberto Lombardo. Ciao Roberto e benvenuto. Buonasera a tutti. Roby, come stai? Bene, bene. Mi sento veramente bene, sì. Senti in forma? Sì, mi sento in forma, mi sento carico. Veniamo da due buone partite, quindi mi sento bene. Sei nella tua seconda stagione qui alla Rocca. Come va? Come stare qui all'Unione? Come stare? È come essere in famiglia, è come una grande famiglia, ti fa sentire bene, stai bene con i compagni, non ti manca niente. Direi che ti sta proprio bene. Quando hai iniziato a giocare a calcio? Ho iniziato quando ero piccolo, avevo 4-5 anni, mia madre aveva già capito che per la scuola non andava, quindi ho detto, provo a buttarlo sul calcio, vediamo come va. Eh beh, sta andando bene, allora. Per adesso diciamo che sì. Quindi da 1 a 10 quanto è importante il calcio? 11. 11? Sì, però. Tu hai la maglia numero 10. Se potessi scegliere il numero, terresti il 10 o prenderesti un numero tuo che per te ha un significato? Diciamo che ho usato il 98 nella mia carriera. Ecco, anno di nascita. È mio anno di nascita, però diciamo che al 10 ci sono affezionata anche perché il mio giocatore preferito al 10, quindi mi sento molto più, non lo so, lo sento mio. Chi è il tuo giocatore? Neymar, il mio giocatore preferito. Eh? Grande spiegazione. Parlando un po' di te, anzi, dei tuoi tattuaggi, quanti ne hai? Eh... Hai perso il conto? Ero arrivato a una settantina più o meno. Sì. Però cosa rappresentano per te il tatuaggio? Diciamo che alcuni hanno un significato vero e proprio e invece altri sono pure estetica. Il primo che hai fatto? Il primo che ho fatto questo a 13 anni, 14. L'ultimo? L'ultimo quello che ho su tutta la schiena. E il prossimo quale sarà? Eh, oddio, non lo so, non ci penso. Quando mi viene un'idea, se mi piace, lo faccio. Ok. Hai vinto un viaggio? Eh? La destinazione la scegli tu. Dove vai e qual è la prima cosa che metti in valigia? Il primo viaggio è New York. Mi piace New York, fin da piccolo. E la prima cosa che metti in valigia? Direi il passaporto perché mi serve, mi serve. Sei pratico. Sei molto pratico. Bene. Anche perché è meglio non dimenticare quando ci arrivo lì a cecchino e poi... Esatto. Apri il famoso cassetto dei sogni. Qual è quello che hai realizzato e quello che ti ti manca di realizzare? Per adesso penso di non aver ancora realizzato nessun sogno. Ne ho dei cassetti. Ne ho. Però diciamo che non mi sento di aver realizzato per adesso nessun sogno. E quindi? Si può dire qual è? No. No, per se la manzia non lo diciamo. Preferisco di lavorare. Va bene. Ok Roberto, grazie per aver schiacciato con me, per essere qua con noi. E adesso corri ad allenarti, dai. Grazie, buonasera.